G.P. non deve chiedere la cortesia alla vicina di casa Gli suona la porta, la porta si apre e dentro c'è un cane enorme che fa Comincia a inghiagli contro, no? Allora lui si ferma, non entra La signora gli fa G.P. entra, entra, tanto il cane è incastrato La signora, io ho paura che mi mussica Mica che mi sa in culo